e dovrei allargare 10 volte di più ragazzi e lo devo dire e braccio ovviamente e non guardare le mani guardare i bracci lo devo dire assolutamente ragazzi a costo di risultare ripetitivo io non posso credere a quello che cazzo quello che cazzo ho appena visto oggi io non ce posso credere ragazzi Siriku non ha subito gol sto scherzando insomma sto scherzando ma non troppo ovviamente non posso credere neanche a come sta per terminare la partita tra Inter e Venezia preparatevi un video a sfogo di quelli pazzeschi a Fantacarcia perché tanto dice che ha messo di donare ma quando ma cioè ben ritrovati vi devo dire 787.417 cose quindi preparatevi ragazzi polemiche clamorose polemiche clamorose su un episodio detto questo mi piace per supportare i miei contenuti mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella da più del 40% di voi se guarda i video tutti i giorni ma non è iscritto ragazzi vi perdete i miei video fate solo che fatica ogni volta per cercare i miei contenuti se vi iscrivete e attivate la campanella ogni volta che pubblico PAH! Gabo me l'ha pubblicato un nuovo video vi arriva la notifica e restate sempre aggiornati ho altri due canali youtube sotto in descrizione o durante il video compariranno qui devo fare un applauso virtuale metaforico telepatico ditelo come volete al Venezia ragazzi per la prestazione che ha fatto oggi contro l'Inter a prescindere da come finirà perché mancano un paio di minuti ma io credo che oggi abbiano fatto la partita perfetta non è che hanno gestito il possesso della palla hanno fatto 787 occasioni da rete che è in casa dell'Inter prima in classifica che c'ha 118 punti e tu sei neopromossa non te lo puoi permettere devi essere intelligente devi capire quelli che sono i tuoi limiti e credo che sia la forza più grande di questo Venezia sapere quali sono i loro limiti ma comunque giocare al massimo delle loro possibilità ragazzi non era facile per quanto possano esserci delle attenuanti per i nerazzurri hanno fatto 120 minuti contro l'Empoli in Coppa Italia Venezia più tranquillo e riposato guardiamo il rovescio della medaglia ragazzi quanti erano gli indisponibili del Venezia ce ne stavano almeno 700 tant'è che ovviamente pure il portiere non era il titolare Lezzerini oggi ha fatto una superprestazione in più di un'occasione è stato particolarmente decisivo vado a guardare la formazione titolare dell'Inter ci stavano scoppiati perché hanno giocato 120 minuti in mezza settimana ma era la formazione tipo per eccellenza e qui devo entrare anche nel merito dei singoli ragazzi perché ci sono delle situazioni da analizzare questo video durerà 20 minuti come minimo allora è inutile che ve li ripeto i titolari comunque era la formazione tipo dei titolari dell'Inter no? Mocchier titolare sulla destra Dumfries Darmian io non credo ci sia un titolare guardando poi quello che ha fatto Darmian in questa partita e ci arriviamo con calma il Venezia ragazzi è stata una squadra oggi veramente cattiva sotto ogni punto di vita pazzie ragazzi è in gioco poi tra l'altro parlo più è incredibile ragazzi le polemiche secondo me aumenteranno anche con questo risultato e adesso devo entrare fatemelo rivedere il gol perché me lo so perso allora Dumfries oh tutti dalla destra oh stesso identico ragazzi hanno fatto gol uguali solo che nel primo tempo il cross l'ha fatto Darmian e chi cazzo ha fatto il gol il primo ah si ma che cazzo sto di cross dalla destra ma come era come è uscito il gol del lì manco mi ricordo che cazzo di gol che ha fatto Dzeko qua però ragazzi si era così poi c'è stato il tiro di Perisic se non me sbaglio era così e l'ha rispinta e barella sul primo gol ma noi entriamo nel merito delle polemiche ovviamente del primo gol dell'Inter passa in vantaggio non meritano di perdere l'Inter non merita e il Venezia non merita di perdere questa partita passa in vantaggio il Venezia ragazzi cross pazzesco colpo di testa clamoroso di non è Thierry Henry anche se oggi dobbiamo dire che questo Henry supera l'Henry che giocava in Serie A Juventus che c'ha in carriera tre gol nel campionato italiano questo oggi ha fatto il quarto vabbè giustamente è ok primo colpo di testa tra uno che arto due metri e venticinque primo colpo di testa gol pazzesco ragazzi Malandanovic secondo me come l'altra volta avevo detto ha fatto i miracoli è stato bravo incredibile perché se parla sempre solo male Dandanovic oggi su quel gol ragazzi mia c'ha responsabilità secondo me poteva fare no de più cento volte de più probabilmente quella pallanza sarebbe entrata mio puro e semplice parere personale Dandanovic tra alti e bassi situazione col del pareggio ragazzi Dandanovic Dandanovic darmianne pazzesco secondo me giocatore veramente immenso e poi uno come Inzaghi sa valorizzarlo al 300% ci sta poco da fare arzo le mani ma è un giocatore che mi piace da morire ragazzi giocatore classico operaio del calcio secondo me ma veramente forte 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 ti fa sempre la differenza sempre nel bene mai nel male quasi mai nel male ragazzi l'azione bravissimo parella box to box si conferma ancora una volta un calciatore che quando ci è stato a buttare la palla in rete la zampata te ce la mette sempre non ve lo dico perché c'è qualcosa contro l'Inter o qualcosa l'avrei detto anche a parti invertite mi conoscete ormai per chi segue sempre i miei video lo avrei detto in qualsiasi altra circostanza e per qualsiasi altra squadra lo dico per giustizia per lo meno è un mio pure semplice parere personale voi siete liberissimi di esprimere il vostro parere qui sotto secondo me c'era un fallo De Geco fallo De Geco e poi oh questa palla dentro no Arturo Vidal secondo me era fallo ragazzi tant'è che Modolo c'è chi chiama Modolo c'è chi chiama Modolo chiamatelo come cazzo come pare poi lo riguarda da bene insomma lo ha preso volontarietà o meno ragazzi per me non era manco in realtà tutta sta volontarietà però lo prende e gli fa un occhio confio così la situazione Varro da Sonna prima ha detto una cosa poi ne ha detto un'altra io vorrei capire perché prima dice no il Varro non l'ha considerato chiaro ed evidente errore se non lo consideri chiaro ed evidente errore e dice no la lascia giudicare all'arbitro l'episodio di campo io continuo ad avere qualche dubbio soprattutto quando vedi quello che c'ha l'occhio così ma che se è fatto da solo cioè che se è un cazzolotto da solo insomma non mi sembrava mi sembrava assolutamente un chiaro ed evidente errore ma poi da Sonna a fine primo tempo Correggio e il tiro mentre stavano negli spogliatoi dice no perché l'azione si è spezzata si è interrotta ha recuperato il possesso di palla e poi l'hanno riperso quindi l'azione spezzandosi non era più la stessa e quindi il VAR non poteva intervenire bisogna cambiare allora la regola se così fosse perché quella è in chiare ed evidente errore rega dai mo per quanto perdi possesso di palla l'azione quella cioè rapida successione devi fare qualcosa secondo me io vi ho lanciato la bomba fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti Venezia che fa la super partita Inter in realtà che ha tenuto per carità il possesso della palla maggiormente probabilmente queste però sono le partite che si porta a casa una squadra che probabilmente probabilmente ipotizzo quest'anno vincerà lo scudetto perché anche contro l'Empoli partite in cui stai in difficoltà fisicamente non magari troppe partite appiccicate ok riuscire a vincere una partita del genere che poteva tranquillamente finire in pareggio mostra comunque la forza dell'Inter il gol ovviamente di Edin Dzeko ve l'ho fatto vedere in diretta non è che ve l'ho fatto vedere in diretta è uscito in diretta detto questo mi pare che ho girato le camera mi piace fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti stavo per parlare di Venezia che ferma l'Inter e domani situazioni clamorose dove esse vince il Milan e da qua e da là l'Inter ha vinto ci vediamo dopo che c'è sta l'Azzi Atalanta ciao